salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato ripreso da questa ragazza che racconta che costantemente in casa sua apparirebbe una strana figura oscura la stessa viene ripresa durante un breve video fatto proprio dalla ragazza insieme ad una sua amica e come potete vedere dalle immagini lo spirito si manifesta mostrandosi alle spalle delle due ragazze che ignare di ciò che sta accadendo continuano a sorridere a scherzare in una casa infestata dallo spirito di un bambino una ragazzina si trova davanti a un evento paranormale davvero impressionante la piccola comincia a giocare col suo amico immaginario ignara di ciò che sta per succederle durante il gioco la ragazzina sale alcune scale che portano al piano superiore dopodiché succede qualcosa di veramente spaventoso questo è ciò che è stato filmato e un po' un po' Una telecamera di sicurezza installata vicino a un municipio in Messico Cattura un evento paranormale in pieno giorno davvero impressionante Quella che sembra essere la figura di una donna appare all'improvviso in mezzo alla strada Allo stesso tempo passa un pullman che la investe Sia il conducente del mezzo che i passeggeri scendono giù dal pullman per dare soccorso a quella povera donna Ma una volta scesi sembra che della donna non ci sia più nessuna traccia Il video seguente mostra un ragazzo posseduto da uno spirito maligno Alcuni suoi amici tentano un esorcismo per scacciare lo spirito Tentando in vano di liberare il povero ragazzo Ma sembra che lo spirito non voglia affatto abbandonare quel corpo No deve che se lo lleve No deve che se lo lleve Una telecamera di sicurezza installata vicino a una stazione Cattura quello che sembra essere lo spirito di una donna Che si materializza vicino a alcune auto Il prossimo filmato mostra questa ragazza mentre pratica un rito di evocazione In un primo momento sembra che non accada nulla di strano Col passare del tempo però sembra che alle spalle della ragazza qualcosa si stia manifestando E non sembra avere buone intenzioni Proprio alle spalle della ragazza appare questa strana figura E sembra che voglia toccare la ragazza Dopodiché si ritira scomparendo del tutto Il video seguente mostra un filmato catturato da una telecamera di sicurezza Installata al di fuori di una casa Abitata da una famiglia Sembra che di notte la telecamera ad un certo punto Catturì quella che sembra essere un'ombra completamente nera Il video è davvero impressionante Questo è ciò che è stato filmato Con un'ombra che si è vicino Non è più ricco Se vuole raro che si perde Il video è perdi tutto No, c'è la scenda Ecco' la scenda Ehi, ecco' la scenda Siamo arrivati al termine ragazzi, il video finisce qui, io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS